è uscita la notizia di questi vaccini, li possiamo chiamare, che la società moderna ha insomma dichiarato aver inventato MNRA per curare il cancro, cioè ci spiega di che si tratta e quando dovrebbero essere disponibili. Allora ciao Serena, allora intanto diciamo che si chiamano vaccini perché usano la stessa tecnologia che abbiamo utilizzato in questi due anni con i vaccini MNRA, però funziona in maniera diversa, il vaccino ha lo scopo di prevenire una malattia e di prevenirne una malattia grave, qui si tratta di vaccini che aiuteranno a curare il cancro, in che modo si farà la biopsia, si capirà che tipo di tumore c'è e quale mutazione ci sono state, a quel punto si metteranno questi dati in un algoritmo e uscirà fuori una specie di fotosegnalettica che verrà inserita nell'MRNA e quindi verranno iniettati alle persone e le persone cosa faranno? Si difenderanno e cercheranno di uccidere le cellule tumorali con i propri anticorpi, quindi è una rivoluzione, è una grandissima conquista della scienza moderna che avrà il modo di curare in maniera sempre più individualizzata, sempre più precisa i tumori. Noi sappiamo che per esempio la chemioterapia che oggi è la terapia che tutti usano ha ovviamente dei difetti, da una parte colpisce le cellule tumorali ma colpisce spesso anche le cellule umane ed è una delle ragioni per cui hanno così tanta tossicità, sappiamo degli effetti collaterali bene, qui avremo degli anticorpi prodotti dal nostro organismo che andranno a riconoscere grazie ai messaggi portati dall'MRNA le cellule tumorali, quindi è straordinario soprattutto perché è un vaccino terapeutico e non preventivo, quindi molti oggi stanno dicendo ma io mi voglio fare il vaccino per evitare che mi venga il tumore, no, per evitare che ti venga il tumore devi fare delle altre cose, fare prevenzione, cercare di mangiare bene, fare tutto quello che è lo screening, però se ti dovesse venire e se gli studi confermeranno quello che in qualche modo è stato annunciato, entro il 2030 potremo avere questa nuova opportunità terapeutica. E questo potrebbe essere utilizzato, se non erro, anche verso le malattie cardiovascolari che sono un'altra causa importante di morte? Ci sono tante malattie che potrebbero essere interessate, ovviamente nel momento in cui questa tecnica funziona per i tumori potrà funzionare sulle malattie cardiovascolari, sulle malattie autoimmuni, anche su alcune malattie neurodegenerative. È chiaro che si apre una nuova frontiera, una nuova conquista della medicina moderna e questo io credo che sia un annuncio straordinario, speriamo che facciano in fretta perché naturalmente ne abbiamo un gran bisogno perché c'è bisogno di avere sempre nuovi trattamenti, sempre nuove cure per queste malattie che purtroppo affliggono l'umanità. Grazie davvero.